Con Monica Cristanelli dell'Ufficio Internazionalizzazione di Intesa San Paolo alla conferenza stampa di Adicia Castiglione delle Stiviere, una conferenza stampa che vede come centro del discorso il distretto che verrà, il distretto tessile della calzetteria che verrà. Come sarà questo distretto in base ai vostri studi e al vostro andamento, quello che sono il vostro sentore? Il distretto che verrà è sicuramente un distretto che guarda all'export, guarda all'internazionalizzazione, che innova, che brevetta, che registra marchi all'estero. Perché la differenza, i nostri studi, la direzione studi ricerche di Intesa San Paolo, la differenza la fanno quelle aziende che sanno innovare, che sanno fare internazionalizzazione, ovvero sanno guardare all'estero cercando dove il loro prodotto può essere visto, desiderato e per questo apprezzato grazie anche alla qualità che in questo distretto in particolare fa la differenza. Un distretto che è sempre stato l'eccellenza della calzetteria, infatti il centro internazionale della calza, e in questo momento c'è un po' la sofferenza. Lei crede che nel Tessile ci possa essere un futuro, soprattutto nel Tessile Made in Italy? Ma il Made in Italy in generale, al di là del Tessile, anche dopo Expo, ha avuto sicuramente una grande visibilità. Il futuro, come dicevo poco fa, la differenza la potranno fare sicuramente quelle aziende che sanno guardare al loro interno per poter guardare all'esterno, non solo in un mercato che oggi è domestico, ovvero quello europeo, ma anche extraeuropeo.